a tutti bentornati sul mio canale come avrete letto dal titolo oggi si parla della nuova naked la smokey questa nuova palette è uscita già da un po in america io l'ho acquistata settimana scorsa dal sito urban di che italiano ci ha messo un po ad arrivare da me qui quindi in sardegna arrivata in otto giorni sinceramente il servizio non è stato dei migliori mi aspettavo una comunicazione più più accurata più più attenta come vogliamo dire insomma non non credo di essere stata l'unica a lamentare questo servizio purtroppo non sono arrivate le mail qualcuna non ha ricevuto neanche una mail io ho avuto quella diciamo dove mi avvisavano che sarebbe arrivata il giorno successivo ma qualcuna appunto non ne ha ricevuto neanche una si è ritrovata la palette direttamente a casa io ho dubitato anche che non arrivasse perché appunto non ricevendo nessuna comunicazione mi sono un attimino preoccupata però è arrivata arrivata sana e salva la palette si presenta così è fatta in plastica trovo che il packaging sia bellissimo la scritta è in rilievo si presenta come le altre così sono 12 ombretti all'interno c'è anche un pennello doppio io l'ho già utilizzata infatti il pennello è sporco da una parte abbiamo il pennello a penna dell'altro per sfumare anche se devo dire la verità questo tipo di pennello non mi piace tantissimo quindi i colori sono questi io ve li faccio vedere di volta in volta vi faccio gli swatch così potete vedere vi faccio prima i primi quattro questi qua in realtà li ho già fatti per comodità sono questi primi quattro abbiamo questi colori piuttosto brillantinati quindi i primi quattro questi qua sono questi vedete sono piuttosto brillanti a parte questo che rimane un più 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 spento rispetto agli altri però gli altri tre sono bellissimi passiamo agli altri quattro gli altri quattro sono questi quindi questi quattro qui sono i più i più scuri eccoli qua per creare appunto degli smog più intensi vi faccio vedere poi gli ultimi qua abbiamo quindi gli ultimi quattro che sono questa fila qua spero si riesca a vedere questi sono i colori più i colori opachi io ho avuto modo di provarla questi questi giorni appena arrivata l'ho provata subito ho fatto anche un mini video su su instagram per chi non mi segue mi trova sempre con mickey 74 ho fatto il trucco anche oggi oggi ho realizzato un diciamo un make up molto leggero ce l'ho su da stamattina adesso sono quasi sono le 6 le 18 credo insomma non ho ritoccato niente il trucco è perfetto sono veramente soddisfatta di questa palette conto quanto prima speriamo di realizzare uno smog insieme a voi magari più intenso così vi faccio vedere un po' come sono questi colori diciamo all'opera io sono molto ripeto molto soddisfatta il suo prezzo adesso intorno ai io l'ho pagata esattamente il prezzo non me lo ricordo sui 49 euro forse 49 euro però diciamo il prezzo delle naked è quello sì mi piace mi piace molto ripeto si possono creare look molto diciamo tranquilli da giorno mentre questa parte qua con questi colori si realizza non smocchi più più intenso quindi io ve la consiglio credo che da sephora uscirà tra agosto e settembre qui da noi magari arriverà ottobre non scherzo qui arriva sempre tutto molto molto tardi spero di esservi stata utile se avete qualche domanda qualche richiesta scrivetemi qua giù insomma io rispondo sempre molto volentieri io per adesso vi saluto vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo ciao ciao